Ingredienti 3 uova intere e 2 tuorli la buccia grattugiata di un limone 110 ml di succo di limone che sono circa tra limoni 110 g di zucchero semolato 60 g di burro freddo ad adini e i semi di mezza bacca di vaniglia questo è opzionale e a discrezione nella ricetta di solito non c'è però per me limone e burro chiama subito vaniglia Allora, in una pentola uniamo il succo di limone con la buccia grattugiata le uova intere e i tuorli e lo zucchero mescoliamo bene il tutto e portiamo a bagnomaria a cuocere delicatamente quindi l'acqua non dovrà toccare la pentola dove è contenuta la crema fino a che la crema non si sarà addensata ci vuole veramente pochi minuti non è una cottura molto lunga togliamo dal fuoco uniamo i cubetti di burro freddo e la vaniglia passiamo la crema al setaccio così diventerà estremamente vellutata e liscia la poniamo in una ciotola di vetro e la facciamo raffreddare coperta di una pellicola trasparente come vi dicevo sul blog trovate il link diretto nell'info box è una crema estremamente versatile potete utilizzarla per farcire qualsiasi tipo di torta crostata, tartelletta, crostatina ma anche servita in un bel bicchierino con un ciuffo di panna secondo me fa una figura non indifferente a me è piaciuta veramente tanto e la maggior parte, vi devo dire la verità l'ho mangiata a cucchiaiate io l'ho utilizzata per farcire una torta una crostata diciamo al limone con una base di fette biscottate ve la farò vedere molto presto e niente, spero che la ricetta vi sia piaciuta è molto molto semplice da realizzare però il risultato è eccellente vi aspetto come sempre sul blog www.menomalesongolosa.com sul mio facebook e instagram trovate come sempre tutto nell'info box se vi piace la ricetta lasciatemi un pollicino in alto e iscrivetevi al canale un bacione e a presto iscriviti al canale Grazie per la visione!